21 maggio 2010, in occasione della prima edizione del Comics Day, siamo nei giardini pubblici di Via Antona Traversa che da oggi saranno intitolati a Gianluigi Bonelli, il grande creatore di Tex, cittadino milanese. Siamo qua con Sergio Bonelli, figlio del grande Gianluigi, è un bel onore, finalmente una zona di Milano viene intitolata un grande fumettista e direi fumettista forse più importante. Sicuramente molto perché io e tutti noi lo interpretiamo come un riconoscimento al mondo dei fumetti che io come insisto a dire da 20 o 30 anni, tutto sommato meriterebbe un po' di più di attenzione perché fare i fumetti è molto faticoso. Una grossa emozione anche per Giorgio, l'altro figlio di Gianluigi, che non si occupa di fumetto ma comunque è qua per presenziare questo importante evento. Sì, lo faccio con grande gioia, io in realtà vivo da tanti anni all'estero, è chiaro che la memoria non può che essere sempre vicina a questo simpatico signore che era per avventura anche nostro padre. La modesta testimonianza che posso portare è che era veramente un personaggio di grandissimo carisma, un uomo molto generoso, spontaneo, simpatico e che ha vissuto veramente la sua vita come in un fumetto. Per cui io non sono così lontano da credere che Tex sia stata in qualche modo una sua trasposizione evidentemente romanzata. Mi fa particolarmente piacere vedere che qui di fianco c'è una scuola, senza andare tanto lontano nel tempo, qualche anno fa la scuola avrebbe tenuto lontano i fumetti perché li considerava qualcosa di molto pericoloso, addirittura di peccaminoso per i bambini. Ora mi fa piacere invece vedere che proprio accanto a una scuola si è aperto un parco dedicato a uno dei più importanti, se non al più importante autore di fumetti italiani e che appunto questo tipo, questo modo di fare letteratura finalmente dopo tanto tempo sta venendo accettato. Sono stati degli anni in cui si pensava che i fumettisti e il fumetto non fossero cultura, fossero tempo libro, intrattenimento, disegno di serie B. Non è così, riconoscere in Gerovigi Bonelli il lidiatore di Tax Wheeler vuol dire anche che riconosce lui l'idiatore di un genere culturale che oggi ha una sua credibilità, una sua coerenza, una sua creatività. Ed è proprio in questa direzione che io voglio realizzare e in autunno si inaugura una casa del fumetto. Milano è la capitale dell'editoria, sarebbe clamoroso e lo è stato, che non riesca a riconoscere e rappresentare di essola anche nel campo del fumetto. In Italia e non soltanto in Italia, i francesi da anni su questo hanno fatto una politica culturale, noi siamo assenti, stiamo cominciando con una via oggi che però ci conduce verso via Le Campagne a 102, mille metri quadrati che in ottobre inauguriamo come casa del fumetto con una serie di mostre a tema. Aggiungo ancora per ricordare Bonelli, faremo un'operazione molto importante, ho individuato dieci grandi fumettisti italiani che verranno a Milano in autunno e ognuno di loro si occuperà di un pezzo della città e la racconterà con un fumetto. Quindi parleremo di Milano attraverso una Milano raccontata mediante i fumetti, un modo secondo me singolare e anche suggestivo di mettere in gioco la fantasia ma anche la tecnica. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Parliamo ora con Mauro Boselli che è uno dei sceneggiatori di Tex, ma che ha avuto anche il piacere e la fortuna di conoscere Gianluigi andando a bottega da lui, giusto? Sì, devo dire che sono stato spesso nel suo studio alla Bonelli's Cave che era in via McMahon 38, la mitica Tana dal creatore di Tex e lì lui mi raccontava le sue storie di vita, lo vedevo a scrivere sulla sua macchina da scrivere antiquata ed è lì che ho avuto la passione per i fumetti e il mio sogno che era quello di scrivere Tex si è realizzato alla fine. Per cui posso dirmi veramente felice quest'oggi. Grazie. Per Gianluigi Bonelli sì, sarebbero potuti usare tante parole, la parola di scrittore, la parola di artista. Il fatto secondo me interessante è che ci sia la parola fumettista, che è una parola della quale è bene ed è bello che non ci sia nessuna ombra che non sia in secondo piano. Gianluigi Bonelli ha scritto romanzi, ha diretto giornali ed è soprattutto stato impegnato come autore di fumetto. Questa targa lo riconosce senza giri di parole, credo che sia un piccolo dettaglio molto bello. 21 maggio 2010 a Milano si inaugura un giardino a Gianluigi Bonelli, il creatore del fumetto italiano. Oggi è un giorno speciale perché è la giornata del fumetto, quindi quale miglior connubio che il più grande autore di fumetti e il fumetto stesso che festeggiano insieme. Tra il presidente della cerimonia non ci sono solo le autorità e gli addetti ai lavori del mondo del fumetto, ma anche un lettore illustre. Ciao Drupi, perché sei qua? Sono qua perché la vita mi ha portato ad incontrare Bonelli, padre. Non conoscerlo purtroppo perché io suonavo in un night e lui veniva lì a passare le serate. Ho avuto l'avventura e l'asciuguro di conoscere bene i due figli, di cui sono diventato un caro amico, spero. Sono venuto volentieri e poi vabbè Tex mi segue da una vita, quando hai un eroe da bambino e poi ti ritrovi oltre gli anta a seguirlo ancora è sempre bello. Io lo considero un riconoscimento, ma che dedico anche ai miei colleghi. Bonelli, padre, è stato l'apripista. Quindi il fatto che lui, che ha cominciato per primo nel 1937 o nel 1938 a scrivere delle storie a fumetti, io ritengo che sia di buon auspicio per chi invece questo lavoro lo fa da poco tempo o anche magari cominceranno da domani a fare i fumetti.